ah mica raga sono quasi emozionato si signori benvenuti a un nuovo video io sono Emiglio e oggi iniziamo finalmente questa minchia di rubrica che da 30 anni che vi dico che la inizio e ora la inizio allora lo dico per chi non lo sapesse quasi un mese fa attraverso un video vi ho chiesto di suggerirmi nei commenti alcuni giochi horror vintage da portare sul canale per fare questa specie di rubrica chiamata horror vintage minchia ancora devo decidere come chiamarla vabbè il gioco più votato in assoluto è stato però appunto codesto qua amnesia sono tutto carico so che tiro i cazzotti all'aria che bello inserisci un nome per il profilo il miglio d inizia nuovo gioco iniziare un nuovo gioco si perché non l'ho mai iniziato raga conosco il gioco nel senso si però devi partire un po più mio nome è franco daniel sentito qua il accento mortacci sua ok partiamo che siamo tipo già fatti come delle merde sdraiati sul pavimento mica hai fatto serata ieri sera zio questo è un gioco che lo conosco per sentito dire diciamo se no non ci ho mai giocato sinceramente ce l'ho la tastiera meccanica e segui la traccia liquida trova nella sorgente minchia però devi stare calmo eh minchia tutto fatto sto tipo raga cioè praticamente noi dove siamo non ci sono più scatole contenenti l'esca e l'accendino frego un cazzo ma proprio frego un cazzo salve zio t'apposto questo li vengono gli svenimenti zio ma stai male oh ma non ci credo posso anche analizzare ma dai no che roba c'è un eco che ti decapito tipo va bene cerchiamo un attimo di andare avanti stiamo calmi eh però ok non dovevo andare di là devo andare di qua le porte che si aprono da sole in un castello con un tipo sdraiati in terra chissà chissà di che cazzo si è fatto ieri sera non è che poi un gioco così bello eh ah ma no ma c'è il trucco vai che storia questi sono i quadri di picasso questo qua è frusta una mucca ah bellissimo ma siete tutti intelligenti a fare ste cose minchia dammi questo non si sa mai mi spunta un qualcosa raga bestemmio guarda a te dimmi se c'è qualcuno non c'è nessuno ma così mi posso sporgere qualcuno mi spiega cosa cazzo significa sta cosa permesso perché ci sono cose delle donne sdraiati in terra posso prendere la sedia figa ma dai che storia posso lanciare le sedie solo perché posso lanciare la roba è fantasma perché non l'ho scoperto prima io ok suggerimento attento quando trovi buio la tua salita mentale diminuisce lentamente accendi la luce nell'ambiente utilizzando le scatole contenenti l'esca e l'accendino per cercare altri sorgenti e di luce va bene va bene va bene quindi praticamente quando sono al buio divento pazzo divento uno stronzo allora questa qui ha la sanità mentale un leggero mal di testa salute va tutto bene diario contiene tutte le natazioni raccolte questo adesso che cosa vabbè me le sono giocate vabbè adesso qua che tutto tutto buio divento stronzo abbiamo finito il gioco bella non posso prendere la torcia non posso prendere la torcia non posso prendere la torcia se no cazzo io prendo la torcia essere presente ai venti che posso turbare riduce la tua sanità mentale può essere aumentata completando puzzle e facendo progressi no non c'è niente che è divento stronzo raga non ho niente da usare ah si grazie a dio vedo le cose sceme hai raccolta lanterna quando è riempita d'olio può essere accesa prendendo il tasto F oh la oh la oh la adesso si che andiamo bene però non sprechiamo la zio non sprechiamola ma questo è malissimo ma questo è veramente male ok prendi qua non posso prendere la scopa di harry potter minchia c'ho una nimbus 2000 qua posso lanciarla non posso lanciarla nel fuoco no non posso fare un cazzo ogni tanto vi conviene accenderla sta cosa perchè si 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 accendi la zio ho trovato una lettera ok vorrei chiederti quanto ricordi non so se resterà qualcosa dopo aver preso questa oh però devi andare al piano che già minchia non riesco a parlare ok che adesso lo devo fare devo tornare indietro quindi praticamente ha detto che c'è questa minchia di ombra che mi sta seguendo c'erano le pozioni qua raccolta olio oh oh spacca tutto spacca ci sarà pure un qualcosa da ah ok da due ore che cerco oh morte tedesca c'ho l'olio non c'ho l'olio che cazzo siamo arrivati ok raga e buon permesso questo è l'olio che c'ho 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 l'olio guarda non ci voglio venire lì dentro è connesso con il che chiamarlo? intorno perché sei girato così da solo? raga mi son cagato addosso eh devo trovare l'olio per sta minchia di lanterna se no qua non andiamo da nessuna parte uè se sto diventando stronzo raga devo accendere la luce qua vicino alla luce se ciao raccolta olio ah prima devo prima devo metterlo ok no buono questo qua ok 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 intanto quando divento stronzo lo accendo ok che cazzo c'è lì dentro? ok risoliamo il laboratorio abbiamo trovato quello che cercavamo ovvero l'olio che ormai sta per finire morte tedeschi quattro volte proviamo ad andare dove dico loro che cazzo è? è dura e pieghevole non può essere spezzata da mani o strumenti ah io me la do eh frega un cazzo eh o vedi che lo nascondono sti bastardi va bene dai proviamo ad entrare un attimo in questa minchia di porta oh budello salta addosso ma che cazzo vieni qua via guarda qua quanto corro cantina è bloccata non si apre senza una chiave vostra madre bastarda cerca tutto prima di tutto accendi sta candelina un altro allora con questo documento offro la mia totale attenzione serone vabbè frega un cazzo è tutto un exploring raga che cazzo fa? ho stato io questo qua con un po' di luce si calma minchia manco col sole in faccia io riesco a calmarmi se mi trovo in una situazione del genere che cazzo è raga? che cazzo è raga? mi sono cagatissimo fortuna che non poteva essere la rotta con le mani sento dei passi che cacò spacco tutto spacco la pergamena questa ce la fumiamo più tardi va bene ragazzi madonna che cavolo ho in testa va bene ragazzi concludo con l'episodio spero ovviamente che il video vi sia piaciuto fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questa rubrica se volete che continuiamo amnesia io pensavo di fare un gameplay massimo due poi passare a un nuovo gioco anche perché voglio portare più horror vintage possibile quindi ragazzi concludo con l'episodio spero ovviamente che il video vi sia piaciuto come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale ciao ciao ciao